Ok ragazzi, che cosa succede quando Vladimir Putin, o più probabilmente, vista la mancanza di distanza di sicurezza dagli ospiti, uno dei suoi sosia inizia a parlare a ruota libera con un bicchiere di vino in mano? Per quale motivo il nemico, per dirla in modo elegante, colpisce le aree residenziali? Perché? Per ottenere cosa? Qual è il suo scopo? Si tratta di bersagli civili, umanitari. Si tratta di un mistero, io me lo chiedo, non ha alcun senso sotto il profilo militare. E quando non riesci a renderti conto che è il tuo stesso esercito a colpire bersagli civili da almeno nove mesi, che cosa potrà mai andare storto? Il primo mondo è stato un progetto, io mi sono a dire, il primo mondo è stato un progetto. Il primo mondo è stato un progetto, io mi sono a dire, che sono stati arrivati in un certo senso. e l'efficienza delle forze volontarie facenti parte del gruppo unito delle forze armate Il ministro della difesa russo ha firmato un decreto il quale definisce la procedura per organizzare le forze volontarie stesse L'atto stabilisce che i gruppi volontari Devono firmare entro il primo luglio un contratto con il ministro della difesa Questo fornirà una legittimazione legale alle organizzazioni militare e volontarie E favorirà un approccio unificato che permetterà a queste organizzazioni volontarie di raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati Inoltre il decreto abilita tutti i volontari a firmare dei contratti singoli Il contratto può essere firmato indipendentemente o all'interno dell'unità di volontari Oppure ancora direttamente con il ministero della difesa E firmando un contratto con lo Stato la cittadinanza russa si estende Sia al volontario sia ai membri della sua famiglia E lo stesso avviene con ogni misura di protezione sociale o di tipo diverso che lo Stato fornisce In questo modo il decreto permette di creare e gestire al meglio unità miste Composte sia da volontari sia da militari veri e propri E potranno essere utilizzate contemporaneamente unità militari e organizzazioni di volontari Queste misure permetteranno altresì E queste misure permetteranno di migliorare sia l'abilità di combattimento Sia l'efficienza e l'efficacia sia delle unità militari dell'esercito Sia quella delle organizzazioni volontari In realtà non è assolutamente detto L'esercito potrebbe avere dei metodi di addestramento profondamente diversi Rispetto a quelli delle cosiddette organizzazioni volontari E non è assolutamente detto che dei cosiddetti mercenari O comunque dipendenti da milizie private Riescano a coordinarsi alla perfezione con unità militari dell'esercito russo e viceversa E naturalmente oltre all'addestramento di base Ci sono anche delle profonde differenze per quanto riguarda la catena di comando Chi impartisce gli ordini alla fine E soprattutto chi gestisce le risorse delle compagnie militari private E la domanda è tutt'altro che banale Insomma immaginatevi degli imprenditori o dei finanziatori Che pagano letteralmente decine di milioni di euro O meglio dell'equivalente in euro Per la propria compagnia militare privata Acquistando blindati, attrezzature, munizionamenti, armi E poi si vedono subentrare un comandante dell'esercito della federazione russa Che si appropria di tutto o di più O inizia a dare ordini decidendo lui Quali sono gli obiettivi che vanno perseguiti e a quale costo Grazie 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 Serviremo la Russia e vinceremo Al contrario Prigozin mostra molto ma molto meno entusiasmo Le ordinanze e i decreti emessi da Shoigu si applicano solo ed esclusivamente ai dipendenti del ministero della difesa e ai militari La Wagner non firmerà alcun contratto con Shoigu Ora in un altro video che magari riuscirò a pubblicare entro domani Vi spiegherò il motivo per cui Prigozin è così imbippato da una parte E Shoigu non vede l'ora di mettere le mani sulla PMC Wagner dall'altra Ma per questa sera devo limitarmi a commentare queste uscite estemporanee di Prigli sui media E devo evidenziare come il cosiddetto cuoco di Putin abbia detto una grandissima bippata Normalmente tutti gli atti emessi da un ministero si applicano certamente a tutti i cittadini di quella nazione E certamente si applicano a tutti i residenti ed i moranti all'interno di quella nazione Quindi se Shoigu ordina qualcosa tu hai soltanto due opzioni Obedire oppure impugnargli l'atto Ammesso e non concesso che questo sia possibile in Russia Normalmente dovrebbe esistere una specie di corte costituzionale Che può prendere in esame il provvedimento ed eventualmente cassarlo In Russia ho il dubbio che un sistema di sicurezza come questo non esista Oppure che anche nel caso in cui dovesse esistere Non stia funzionando proprio benissimo Vuoi perché anche i giudici hanno paura delle scale piuttosto che delle finestre e dei tè Vuoi perché magari quegli stessi giudici aspettano che ti presenti con un congruo numero di valigette ricolme di lingotti d'or Comunque sia le parole di Prighi non sono condizione necessaria e sufficiente Per disapplicare le leggi della federazione russa O i decreti di un ministro E poi la PMC Wagner è perfettamente integrata nel sistema E quando i tenenti colonnelli dell'esercito non sparano addosso alle unità militari della Wagner O altri soldati russi si divertono a minare i campi dove questi mercenari dovranno passare La Wagner si coordina perfettamente con tutti i generali Con quelli che stanno a destra, con quelli che stanno a sinistra, con quelli che stanno al centro E poi la Wagner ha esperienza da vendere e una struttura altamente efficiente Pensate che per prendere Bakhmut ci ha impiegato soltanto nove mesi o forse un anno giù di lì E sventuratamente molte unità militari non hanno la stessa efficienza della Wagner E questo perché Shoigu non è in grado di gestire in maniera adeguata delle formazioni militari Mentre invece Prigozin, che fino all'altro ieri faceva il cuoco di Putin, è un rambo fatto e finito E poi Prighi ripete per l'ennesima volta che i decreti del Ministero della Difesa Si applicano soltanto al personale del Ministero della Difesa Non certo ai suoi ragazzi del gruppo W E poi Prighi ripete per l'ennesima volta Che i decreti del Ministero della Difesa si applicano soltanto al personale del Ministero della Difesa Non certo ai suoi ragazzi del gruppo W O che queste munizioni e proiettili arrivino soltanto unitamente a una richiesta di aiuto E per quanto riguarda la subordinazione Il gruppo W è subordinato solo ed esclusivamente agli interessi della Russia e del suo comandante in capo Ma Vladi, te lo giuro, ha detto proprio che lui e il gruppo W fanno solo gli interessi della Russia E soprattutto del loro comandante in capo Che poi saresti tu Ma dai, perdonalo Anche oggi il tè glielo offriamo domani Eh? Affare fatto? E per quanto riguarda invece le azioni eseguite sul terreno Secondo Shoigu e Gerasimov la Wagner è perfettamente coordinata con il generale Sukolvin Che stabilisce quali siano i compiti e le priorità del gruppo Mi ricordo di Sukolvin, se non erro, era quel militare che è divenuto noto con il nomignolo del macellaio Certo che Putin sta mettendo insieme una brigata di cuochi da libidine Intendo dire, c'è Prigozin che è il suo chef C'è anche il macellaio come generale Mi domando quale altro esperto di cucina salterà fuori nei prossimi mesi E dato che Surovikin è un comandante militare capace e con tanta esperienza I compiti da lui stabiliti in accordo con i vertici del gruppo W Sono sempre stati eseguiti con successo Quindi, sostanzialmente, se sei un soldato oppure un merch, un volontario Come lo chiamano al Ministero della Difesa Ben presto ti ritroverai fra l'inculine e il martello Il martello potrebbe essere quello della Wagner Che non è propriamente tenera con i traditori Viceversa, l'inculine può essere quello di Shoigu e della Federazione Russa Che non vede di buon occhio i mercenari E vista la reciproca simpatia che scorre proprio letteralmente a fiumi Fra il Ministero della Difesa da una parte e il gruppo W dall'altra È elevatissimo Io già vedo il povero militare slash mercenario A cui Prigozin ordina di fare una cosa E Shoigu dall'altra parte Ordina di fare l'esatto contrario Solo perché gli sta sul bippo Prigozin o viceversa Se poi questo mercenario non eseguirà gli ordini Perché ritiene che lo Stato debba avere la priorità Diventerà un paria fra gli altri mercenari I quali, peraltro, potrebbero anche decidere di dargli la caccia Per prenderlo a martellati Cosa che, detto fra parentesi, abbiamo visto realmente E purtroppo fare dai mercenari della Wagner Viceversa, se segue l'ordine della W ma ignora Quello della regolare catena di comando militare Questo militare diventerà un ricercato E se catturato e arrestato Dovrà scontare quantomeno un decennio in prigione Ma forse per i soldati e per i mercenari Esiste una terza via per evitare tutto questo bippino Vediamola insieme Ragazzi, il mio nome è Denis Sono di Mosca, sono russo E sono ancora un cittadino della Federazione Russa E cosa ancora più importante Sono il comandante dell'unità RDK È un'unità per russi Cittadini russi che combattono al fianco degli ucraini Fin dall'inizio della guerra E combattiamo con un discreto successo Poi ragazzi, non so a voi Ma a me la falsa modestia ispira tantissima ironia Sempre e comunque Bisogna in ogni caso riconoscere Che l'RDK si difende realmente bene La vita è fatta di scelte E voi oggi, ora, dovete prenderne una Potete essere scambiati come prevede la procedura Potete prendere parte al programma Io voglio vivere e restare in Ucraina Fino alla fine della guerra In questo caso vi darò io i documenti Oppure esiste una terza opzione Potete restare e combattere per il bene e per la giustizia Come io faccio e credo di fare Potete combattere con l'RDK al fianco di altri cittadini russi Soltanto che questa volta potete farlo contro l'esercito di Putin E contro il ministero della difesa russo Ora, io non sono proprio un espertone in comunicazione Ma secondo me Se eliminiamo la prima parte del discorso E cioè quella di combattere contro Putin Ma lasciamo e amplifichiamo un pochino la seconda E cioè combattere contro il ministero della difesa russo Secondo me Prighi e il gruppo W Ce li portiamo a casa come collaboratori Se volete unirvi all'RDK Questa è l'ultima vostra possibilità Quindi approfittatene C'è qualcuno che vuole unirsi al gruppo? Stai, per favore Tu, per favore, alzati Puoi identificarti, per favore E il ragazzo naturalmente si identifica Dice il suo nome, cognome, data e luogo di nasce Io rifiuto di essere scambiato e di tornare in Russia E dove ho servito? In una compagnia Wagner Tu rifiuti di rientrare? Sì Dove hai servito, ragazzo? Ho servito nel gruppo W Wow Signor Prigozin I nostri destini si intrecciano nuovamente in modo piuttosto bizzarro Tuttavia, se una persona desidera qualcosa, noi non dovremmo ostacolarla Io credo che questo ragazzo sia stato un degno soldato nei ranghi del gruppo W E che ora potrà essere un altrettanto degno soldato nei ranghi dell'RDK E questo è tutto ragazzi, non dimenticate i vostri documenti Se qualcuno vuole restare in Ucraina, può farlo anche senza impugnare le armi Diversamente, auguro a tutti di poter rientrare nelle vostre case quanto prima E di non incrociare più la mia strada Il comandante saluta dicendo qualcosa del tipo andate in pace E l'equipaggio, gli occupanti, i passeggeri del pulma rispondono grazie E questo è tutto Ora, non so a voi, ma personalmente questa registrazione non è assolutamente piaciuta Intendiamoci, io capisco le esigenze di propaganda Ma esiste anche un'altra esigenza, che è quella di tutelare la privacy dei prigionieri Chi si arrende o comunque decide di non tornare in Russia Viene trattato come un vero e proprio traditore E se tutto va per il meglio, si becca una condanna a dieci anni Ripeto, nella migliore delle ipotesi E' chiaro che se tu fai questa domanda telecamera alla mano Riprendendo tutti i prigionieri Saranno in pochi ad accettare di esporsi E l'unico risultato che otterrai sarà quello di avere il silenzio come risposta Quando magari fra le fila dei prigionieri Ci sarebbe stato anche qualcuno ben lieto di restare in Ucraina fino alla fine della guerra In secondo luogo, operando in questo modo, hai messo in pericolo la vita del ragazzo Che ha deciso di diventare un volontario Peraltro nel tuo stesso corpo d'armata, come si chiama Anzi, scusate, più che corpo d'armata, unità militare E' così che la definisce il comandante Ed è così che la chiamerò d'ora in poi Comunque, come stavo dicendo Riprendendo e trasmettendo le immagini di questo ragazzo Che decide di operare sotto il tuo comando Lo stai mettendo in pericolo Perché chiaramente la Wagner non prende bene le defezioni Li considera tradimenti E a differenza dei tribunali russi Che pure non ci vanno giù leggeri La Wagner fa di tutto per raggiungere questi traditori e punirli Al di fuori delle regole della legge Quindi, se è corretto da una parte Chiedere a tutti se vogliono approfittare delle alternative Per non tornare in Russia E se è altresì corretto Chiedere ai prigionieri Se per caso qualcuno vuole combattere Dalla parte del bene e della giustizia Sto citando a memoria Lo puoi fare Ma dovresti proteggere i tuoi uomini E dovresti proteggere anche quelli Che decidono di essere i tuoi uomini Un rapporto di questo tipo Infatti si costruisce sulla fiducia E sulla riservatezza Detto fra parentesi Prighi ha già visto questo video E ha rilasciato un comunicato stampa Comunicato stampa Che analizzeremo in dettaglio la prossima volta Qui mi limito a dire Che come in altri casi Ha anticipato che la Wagner Si vendicherà nel peggior modo possibile E anche per oggi Questo è tutto Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere Lasciando scritto qualcosa qui sotto Se poi vi piace il mio canale Ricordatevi di iscrivervi Di attivare la campanella Di condividerne i contenuti E di mettere il like ai video Se non lo farete In un futuro estremamente alternativo Remoto e puramente eventuale Potreste ritrovarvi Chiusi nella stessa stanza Per una settimana Con prighi da una parte E Gerasimov e Shoibu dall'altra Io vi ho avvisati Come sempre Grazie di tutto per tutto E a presto